Volete anche voi uno speaker Bluetooth ma non volete spendere una cifra esorbitante? Bene, oggi ho la soluzione per voi. Vi parlo infatti di questo speaker che mi è stato mandato dalla marca Mifa, che ringrazio, e vi lascio in descrizione il link per l'acquisto. Vi porterò ovviamente alla pagina di Amazon dove potete andare a consultare le varie caratteristiche se non avete voglia di guardare tutto il video. Ma io vi consiglio di guardarlo perché scopriamo insieme quindi le sue caratteristiche, il suo design e tutti i suoi aspetti interessanti. Preciso subito che ha un prezzo veramente economico, infatti attualmente costa circa 20€, poco meno di 20€ e per la qualità dei materiali, per la qualità di tutto il prodotto è veramente pochissimo. Andiamo quindi a mettere da parte, ma teniamo qui in bella vista, questa scatola veramente fantastica e aprendo possiamo notare che lo speaker è veramente ben protetto. Infatti troviamo nella parte superiore questo strato di spugna che appunto va a coprire il nostro speaker evitando insieme a quest'altro strato, veramente molto spesso questo qui, di andare appunto a proteggere lo speaker in caso di caduta accidentale durante il trasporto insomma. Una volta aperto quindi ci troviamo subito lo speaker qui in bella vista, che mettiamo subito la bellezza del design, la bellezza delle forme di questo speaker e anche questo piccolo strato giallo che è appunto un contenitore per i vari cavi che andiamo a vedere subito. I vari cavi non sono altro che, come al solito, il cavo di ricarica, che è appunto il cavo micro USB e USB che ci permette quindi di andare ovviamente a ricaricare il nostro speaker. Poi è incluso nella confezione anche questo piccolo laccetto che ci permette ovviamente di andare ad attaccare lo speaker dove noi vogliamo e inoltre è incluso anche il cavo jack. Come vedete appunto è jack e jack da entrambe le parti, quindi non è altro che un cavo aux, che ci permette di andare a collegare la cassa sia ad un dispositivo mobile che ad esempio anche all'audoradio della macchina. Una particolarità di questi cavi inoltre sono che sono di colorazione gialla e hanno ovviamente anche il marchio MIFA impresso sopra di essi, a differenza degli altri marchi che non ho mai visto personalmente. Passando invece allo speaker stesso possiamo vedere che ha veramente delle dimensioni ridotte. Nella parte superiore possiamo trovare i soliti tre tasti, quindi il tasto più che ci permette di andare quindi a riprodurre la canzone successiva o anche aumentare ovviamente il volume. Nel centro il tasto play pausa e nella parte opposta il tasto meno che ci permette quindi di andare a ridurre il volume o a tornare indietro con i brani in riproduzione. Nella parte posteriore possiamo notare che, vabbè, oltre alle solite informazioni che sono stampate su la sicurezza europea, bla bla bla, possiamo trovare questo piccolo sportellino che non è altro che un po' a tenuta stagno, infatti è un IP66 se non erro questo speaker e come vediamo già anche subito scritto è un ingresso AUX, un ingresso per le micro SD e un ingresso ovviamente USB, micro USB. Andiamo allo ad aprire e vediamo appunto che questo qui verde è appunto l'ingresso AUX. Nel centro possiamo andare ad inserire delle schedine micro SD con ovviamente già caricate delle canzoni per poter andare a riprodurle senza connettere questo dispositivo ad uno smartphone e nella parte invece opposta appunto troviamo l'ingresso per la ricarica. Nella parte invece inferiore possiamo trovare questi piedini che non sono altro che delle mini ventosine che vanno a migliorare la stabilità del nostro speaker. Infatti se noi andiamo ad attaccare ad esempio su questa superficie, che non è altro che un tavolino di metallo se noi proviamo a staccarlo vediamo che non riusciamo. Questo perché appunto le ventosine stanno facendo effetto e quindi ci permettono di avere una migliore stabilità anche in caso noi lo dovessimo prendere dentro, come vedete lo speaker stesso non cade. È una caratteristica davvero particolare di questo speaker che ovviamente per il prezzo che ha è veramente una cosa fenomenale. E come vedete appunto quando lo andiamo a staccare ha questo suono proprio delle ventosine. Nella parte invece laterale possiamo trovare questi due fori che ci permettono quindi di andare ad attaccare il laccetto che nominavo prima, quindi ci basterà farlo passare all'interno e poi possiamo andare ad esempio anche a tenerlo al polso. Per quanto riguarda invece le caratteristiche dello speaker stesso, ha all'interno un speaker, una cassa da 5 watt che quindi garantisce un'ottima qualità del suono e anche una riproduzione fedele degli alti e dei bassi. I bassi che appunto sono rimasto veramente soddisfatto sia per il prezzo che ha e anche per le dimensioni davvero compatte. Per qualità del suono non posso farvela sentire in quanto comunque la qualità che passa attraverso la videocamera non è la stessa che viene percepita da me che sono qui davanti e quindi è diciamo un po' un test inutile a mio parere. Per quanto riguarda invece la connessione è appunto una connettività bluetooth 4.2 e ha all'interno anche una tecnologia tvs che io attualmente non avevo mai sentito nominare ma non è altro che una particolarità che ci permette quindi di andare ad associare questo speaker ad altri speaker che hanno questa particolarità quindi questa connettività tvs per andare a creare quindi una zona stereo, una zona surround dove ad esempio possiamo mettere quattro speaker connessi tutti con lo stesso dispositivo e andare quindi a ricreare un ambiente virtuale sonoro veramente fantastico. Vi ricordo quindi che in descrizione trovate il link per l'acquisto di questo prodotto c'è sia della forma quadrata sia della forma circolare. Le caratteristiche sono essenzialmente le stesse solo che in quello circolare è presente con un moschettone quindi quello diciamo va a sostituire questi due fori con il laccetto che si può andare ad attaccare. Io spero che questa recensione molto molto breve vi sia stata d'aiuto vi invito quindi ad iscrivervi al canale per non perdervi i miei prossimi video e noi ci becchiamo nella prossima recensione o nel prossimo tutorial. Ciao!